12 giornali, 9 cartacee e 3 online, 4 della città e 8 della provincia, sono stati i protagonisti di Giornaliamo, la rassegna delle testate scolastiche realizzate dagli studenti che frequentano le scuole della fascia dell'obbligo. I ragazzini hanno affollato questa mattina il centro studi Cariparma, presentando i loro giornalini, ma improvvisandosi anche attori, con filmati e scenette dal vivo sul tema I nostri cronisti sulla scena di uno strano furto. Che esperienza è stata? Bella, molto bella. Tutti i giovedì andavamo a scuola e facevamo il giornalino con la POF Campopiano e oggi siamo venuti alla premiazione. Come è stato fare il giornalista? Mi sono divertito, è stato piacevole, mi sono anche divertito, sì, è stato bello, è stato bello, una bella esperienza da rifare. È stato bello lavorare con i tuoi compagni di classe? Sì, molto, è stata un'esperienza direi molto bella e interessante. Ti piace fare il giornalista? Sì, più che il giornalista, però l'attore. È carino anche il giornalista, però mi piace di più l'attore, perché piace fare finta, fingere. I giornalini sono una scusa poi per stare in mezzo a questi ragazzi? Assolutamente, ho detto prima che per me è stata un'iniziativa di entusiasmo e di fiducia vederli oggi, vedere l'entusiasmo che ci mettono, vedere gli occhi che brillavano. La cosa che a noi piace è proprio questa iniziativa, sia con i ragazzi delle scuole medie, sia con le ragazze delle scuole superiori. Il fatto di essere vicino alla scuola, anche la nostra vicinanza con il progetto Adotto una classe di Confindustria. Cioè vogliamo assolutamente essere vicini al mondo scolastico piacentino, anche perché ci sta dando veramente grandi, grandi soddisfazioni. Alla fine, attestati e premi per tutti. Appuntamento al prossimo anno, quando l'iniziativa della Cilis diventerà maggiorenne, raggiungendo la diciottesima edizione.